Conosci i tuoi campioni su Sportiva, la scheda del tuo idolo. È stato il primo calciatore ad aver vinto la Champions League con tre squadre diverse, un vincente nato. Clarence Seedorf, nato in Suriname nel 1976, ha alzato per quattro volte la Coppa dalle grandi orecchie. Una con l'Ajax, club dove è cresciuto, una con il Real Madrid e due con il Milan. Ma la sua bacheca non è tutta qui. Ci sono anche sei campionati e due coppe nazionali, oltre a due titoli iridati per club. Centrocampista duttile, con grande forza fisica e un potente tiro dalla distanza, nella sua oltre ventennale carriera ha vestito anche le maglie di Sampdoria, Inter e Botafogo. Meno fortunata la sua esperienza con la Nazionale dei Paesi Bassi, con la quale ha raggiunto il quarto posto al Mondiale di Francia 98. Dopo più di mille partite, Seedorf lascia il calcio giocato nel gennaio 2014 per tornare al Milan da allenatore. Un'esperienza che si conclude dopo pochi mesi.